Scaricare a terra le potenzialità. Guardo Marco Panieri, sindaco di Imola, che di scaricare a terra la potenza dovrebbe sapere qualcosa. E la specificità del turismo del suo territorio, in Molese, abbiamo detto già qualcosa. Buongiorno a tutti, in maniera molto veloce, come la Formula 1 e la Motor Valley. Al di là di questo, penso che dal Covid alle due alluvioni, sostanzialmente, che hanno toccato l'Emilia Romagna, hanno toccato anche i nostri territori, abbiamo capito che la cosa migliore, anche per affrontare il turismo, è fare insieme, cioè rilanciare i nostri territori attraverso grandi opportunità. Quella, ad esempio, di Città Motore è stata una grande opportunità, perché ci siamo uniti in oltre 120. Abbiamo, attraverso l'Italia Motor Week, rappresentato quello che è il tessuto delle passioni, dell'innovazione, dell'entusiasmo, ma anche di quello che è l'Italia. E quindi l'immagine di quel tricolore che abbraccia i motori, ma che guarda, ovviamente, alla sostenibilità e al futuro, perché è stata anche l'occasione per approfondire i tantissimi temi. Ovviamente sono territori nostri che abbracciano dai parchi, penso al Parco della Veneta del Gesso, appena entrato come patrimonio dell'UNESCO, ma penso anche alle grandi opportunità delle ciclovie che purtroppo sono state danneggiate con l'alluvione. Ma, ad esempio, il tema della Motor Valley, ed è qui che mi voglio un attimo concentrare, unisce ovviamente quello che è il food, la food valley, e ovviamente la rappresentanza di quello che è il cibo italiano, di tutti i cibi, perché nel promuovere insieme abbiamo questo, e il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, che rappresentiamo a Imola, ma è un'occasione per l'Italia, perché promuoviamo all'estero quello che sono le tante eccellenze di tanti colleghi qui in sala, che ovviamente sono all'interno del nostro Paese. Ricordiamo, Sindaco, il turismo motoristico, lo dice, Union Camere, ha spostato nel 2019 4 milioni di persone. È fatturato importante. Esatto. Velocissimo. Esatto. Velocissimo. Per chiudere, noi abbiamo proprio misurato questo sul Gran Premio di Formula 1, abbiamo subito calcolato qual era anche il ritorno diretto e indiretto dei territori, questo per promuovere anche ancora meglio il nostro Paese all'estero, ovviamente fallo, come diceva la Ministra, insieme. Grazie. Grazie, grazie Marco Panieri, anche per la velocità, non poteva essere diversamente.